13 febbraio poiché questo dio è il nostro dio in eterno egli sarà la nostra guida fino alla morte salmo 48 14 una guida per tutta la vita il cammino della vita di ognuno è faticoso difficile e spesso in solitudine nel cammino della vita non mancano le situazioni particolarmente dolorose nessuno può dire di essere immune da momenti di sconforto di smarrimento e di debolezza l'uomo generalmente ricerca un aiuto una guida sicura che lo accompagni nel corso della vita sono tanti coloro che onestamente si domandano se esiste una guida veramente sicura che le accompagni fino alla fine del tragitto cristo gesù il messia il signore è l'unica guida sicura per l'uomo come gli stesso affermato e non vi fate chiamare guide perché una sola è la vostra guida il cristo tutti possono rivolgersi a gesù ed essere accompagnati da lui nel cammino della vita se ti senti smarrito non sai quale direzione prendere se sei solo perché gli altri ti hanno abbandonato se sei deluso a causa delle tante difficoltà rivolgiti con umiltà a dio chiedigli di guidare la tua vita ed egli lo farà conducendoti fino alla fine e sarà il tuo dio in eterno